Esatti, eh? Ecco qui. Buongiorno a tutti. Siamo molto felici di essere qui insieme questa mattina con questa opportunità straordinaria di parlare con il maestro Andrea Bocelli, un'artista straordinaria. Sì, abbiamo avuto un grande privilegio di ascoltare questa musica e oggi abbiamo il privilegio di share con loro alcune idee. Maestro Bocelli, grazie per questa opportunità. Allora, mi sembra significativo che questo nostro incontro oggi reciti le opportunità per chi deve affrontare e confrontarsi con le barriere nella propria vita. Ma io non voglio partire dalle barriere, voglio partire da una storia straordinaria che è la sua e che ci aiuta a capire che cosa vuol dire affrontare la vita in un modo o in un altro e avere o meno una storia di opportunità. La sua maestra è una storia di sfide, ma mi dicono i bene informati che è una storia di sfide fin da quando era ragazzino, perché lei è qualcuno che le sfide le ha sempre, come dire, affrontate ma soprattutto le ha sempre volute vincere. Mi hanno detto una cosa vera? Sì, ho un brutto carattere in effetti in questo senso. Ma guardi, innanzitutto mi lasci dire che sono abbastanza stupito ogni volta che vedo un grande pubblico che viene a ascoltare il mio canto, ma sono ancora più stupito quando mi accorgo che ci sono persone che vengono ad ascoltare quello che dico. Già che in casa, ad esempio, molto spesso io da padre di famiglia, quale sono, insomma, faccio le mie prediche, spesso mi sento di stare zitto. Questo non lo so, ci crediamo, ma va bene. Penso che sia un po' il destino di tutti i genitori comunque. Veniamo alle sfide. Le sfide sono un modo di vivere, il mio modo sui vendi, ma non le considero sfide, non mi sembrano tali. La vita è un dono straordinario, di cui non va perso un solo attimo. E di fronte al desiderio di fare qualcosa è importante rispondersi sempre «Yes, I can», come direbbe Obama, no? C'è un cavallo bizzarro che però è bellissimo, sarebbe bello montarlo. E voglio montarlo. A lei quante volte è capitato? Ci dica la verità. Beh, da ragazzo molto spesso. Adesso sono un po' più prudente. Però mi piace la vita, amo la vita a 360 gradi e sono curioso. Mi piace fare esperienze. Quindi le sfide in questo senso non mi sembrano tali. Senta, ma arrivare da un paesino, vede, noi siamo circondati oggi da persone che arrivano da tutto il mondo, no? E lei arriva da un paesino nel cuore della provincia toscana, in quella meravigliosa provincia che tante delle persone che ci sono anche qui oggi hanno imparato a conoscere. E però, insomma, immaginare di arrivare da un paesino di 1800 anime o giù di lì, non so adesso quale sia l'anagrafe esatta, e diventare un punto di riferimento internazionale per il mondo della musica, certo, dell'arte, ma anche come figura che ispira moltissime persone. Cosa c'è in mezzo tra quel borgo e quello che è Andrea Buscelli oggi? Non credo, non ho mai pensato e non penso che serva nascere a Manhattan o in centro a Roma per fare qualcosa di interessante nella vita. E del resto basta ricordare che il padre della filosofia contemporanea, Immanuel Kant, è nato e cresciuto in una piccola città tedesca, a Königsberg, e lì è rimasto sempre. Lui non ha avuto neanche la curiosità di girare il mondo, ed era talmente abitudinario che la gente quando lui passava a fare la passeggiata pomeridiana rimetteva l'orologio perché lui passava sempre da quel posto alla stessa ora. Questo ci insegna molto, ci insegna che dentro ciascuno di noi esiste un grande universo, un mondo che può essere esportato, che può essere donato e non importa, come vi dico, nascere in una grande città o in un luogo particolarmente stimolante. Credo che serva trovare in noi stessi la voglia di vivere, e il desiderio di fare delle cose, di creare delle cose. Questa è la cosa più importante. Per essere felici bisogna creare, dare un senso alla nostra vita. Ecco, lei non pensa però che lungo il percorso conti anche la questione delle opportunità, perché quello che ognuno di noi vuole e desidera fortemente è centrale e quindi implica quanto le persone si mettono in campo. E però ci sono anche delle cose che nella vita di ognuno di noi rendono possibile o meno un approdo o un altro. La mancanza di opportunità che purtroppo esiste per molte persone al mondo ancora consiste di fatto nella presenza di ostacoli insormontabili. Allora, il compito di ciascuno di noi come singoli, il compito delle fondazioni in quanto tali, il compito dei governanti in quanto governanti, per creare delle opportunità, le stesse opportunità per tutti, il compito è quello di sgombrare il campo dagli ostacoli, nella misura in cui questo è possibile. È quello che lei sta tentando di fare anche con la fondazione, con il lavoro che voi state facendo in tutto il mondo? Sì, la fondazione nasce con questo scopo, quello di creare le opportunità per chi non ce l'ha, ricreare le opportunità per chi non ce l'ha e aiutare là dove si deve aiutare. Naturalmente la fondazione è un organismo complesso dove c'è la buona volontà di tante persone e all'interno di questa fondazione io mi sento un po' a volte come un personaggio di Dostoevsky. Non so, immagino che voi, molti di voi, abbiano letto I demoni di Dostoevsky. Questo libro, il personaggio principale, che si chiama Nikolaev Sevolodovic, è un personaggio che in realtà non ha nessuna qualità particolare, ha solo quella di essere un uomo che catalizza l'attenzione degli altri su di sé. E allora viene scelto, viene tirato un po' da tutte le parti perché tutti lo vogliono con sé per fare delle cose. Io sono un po' così, non sono capace di nulla in particolare, ma evidentemente il buon Dio mi ha dato il dono di suscitare attenzione sugli altri, non so perché. Maestro, che lei non sia capace di nulla in particolare è un understatement che noi accettiamo come gruppo di persone che l'ascolta, ma insomma è un po' difficile. No, guardi, essere intonati non è di per sé una cosa così straordinaria, immagino che voi tutti lo siate. Maestro, senta, io oggi da giornalista dico, titolo, il maestro Bocelli ha detto di essere intonato. Lei mi permetterà? Almeno fin qui penso di poterlo sostenere davanti a te. Quello di essere intonato, poi anche su questo si potrebbe discutere perché poi l'intonazione è una cosa, si può essere intonati da 0 a 100, si può essere intonati 90, 95, 100 è proprio difficile, quindi qualche stonatura ogni tanto c'è anche per me. Però ecco, detto questo, il fatto di avere una voce naturalmente non rappresenta di per sé un merito, anzi io sostengo spesso e ho un modo di dire a voi giornalisti in occasione delle interviste che mi fate che la mia convinzione è questa, nell'uomo non esiste il merito, quindi questo non vale solo per me, vale anche per voi. Il merito non esiste. Nell'uomo esiste solo il demerito perché il merito di avere delle qualità, di essere bravi in questo, in quello, è soltanto un dono che uno ha ricevuto dal cielo. Bisogna riconoscere questa cosa qui. In molti invece esiste piuttosto il demerito di non aver messo tutto l'impegno per fare di queste qualità qualcosa di veramente straordinario. Quindi io sono nato intonato e con questo dono strano che mi sorprende ogni volta di vedere che la gente ama sentirmi cantare, questo mi fa piacere, io ho approfittato di questo fatto per creare uno strumento in grado di invece di diventare importante per la vita di tante persone che soffrono e questo strumento è appunto costituito da una fondazione che porta il mio nome e all'interno del quale opera un certo numero di persone veramente capaci, veramente volonterose, con un grande cuore e una grande anima. Ecco che ha due prospettive, io vorrei prima partire dalla prospettiva di superamento delle barriere dei limiti dando delle opportunità per esempio in un posto come Haiti, quindi vorrei partire da quel pezzo della fondazione. Lei, secondo me, se lo ricorda il giorno che ha deciso che bisognava proprio fare una fondazione e bisognava partire da Haiti, possiamo chiederle di chi è un dividere con noi il momento di quella decisione? Diciamo che ci sono stati due momenti fondamentali, il primo potrebbe essere quello dell'incontro con Padre Rick. Padre Rick è un eroe dei nostri tempi, un sacerdote che si è recato a Haiti molti anni fa e quando ha visto la situazione di questa isola ha pensato bene di tornare in America, di laurearsi in medicina e di tornare lì a vivere facendo il sacerdote e il medico, operando in condizioni disastrose per 12 ore al giorno, minimo. Io sono rimasto molto colpito da una persona così e ho deciso di aiutarlo. Poi c'è stato il secondo momento, il terremoto, il terribile terremoto di Haiti. Sono stato svegliato con questa terribile notizia. Nel frattempo la Veronica aveva già provveduto a organizzare una sorta di aiuti che arrivassero là attraverso camion, eccetera. e da quel momento in poi la nostra intenzione, la volontà di aiutare questa gente è stata sempre più forte. Ecco, questa è la parte dell'internazionale, della fondazione, dell'aiuto a chi ha appunto un limite, alla propria libertà, come dire, di costruzione di una vita che è nella povertà, che è legata alle catastrofi, a una vita particolarmente disagiata. Poi invece c'è il pezzo di fondazione nel quale voi lavorate e state lavorando per esempio con l'MIT per lo sviluppo della tecnologia per chi deve far conto con altri tipi di limiti. Sì, io ho scelto di tentare un'impresa in un campo del quale avevo comunque qualche nozione. E allora pensando a tanti, anche amici miei, persone non vedenti che vivono nelle grandi città e che ogni giorno devono affrontare il disagio enorme di uscire di casa, andare a fare la spesa, andare a lavoro, attraversare la città con i pericoli e le difficoltà che sono ovvie, ho pensato di tentare, di creare uno strumento in grado di risolvere il loro problema di spostamento. Quindi uno strumento che li aiutasse a muoversi, a evitare gli ostacoli e a trovare con facilità quello che cercano. Ecco, poi ci sarà proprio la seconda sessione di oggi che sarà dedicata al racconto e a un ragionamento su quelli che sono gli sviluppi tecnologici in questo momento e in quest'ambito. Oggi ci racconteranno, credo di aver capito, che ci racconteranno i passi avanti che sta facendo la medicina, la chirurgia per risolvere a monte il problema, cioè il problema di ridare la vista a chi non ce l'ha. E tutti noi speriamo questo, ci auguriamo questo. Quindi io da un lato cerco di far presto, da un lato cerco, spero, che lo strumento che io vorrei creare si renda inutile il più presto possibile. Questo mi sembra il più bell'augurio anche per le persone che poi discuteranno di questi aspetti. Lei con questo limite però si è comportato come con tutte le sfide della sua vita e anche da questo punto di vista il suo carattere ha contato molto, credo. Ma guardi, è difficile che uno abbia sempre il bicchiere pieno davanti a sé, no? Tutti noi abbiamo dei limiti e tutti noi abbiamo, così, c'è qualcosa che non, vorremmo avere e non abbiamo. Eh certo. Tutto sta nel decidere se vedere il nostro bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, no? E io non so se questo sia un limite della mia intelligenza ma continuo a vedere il mio bicchiere sempre mezzo pieno e anche quasi pieno del tutto. Senta, ma quanto è stato difficile per esempio per i suoi genitori avere a che fare con un giovincello di forte carattere quale lei è stato tutta la vita e che invece il senso del limite sembra non ce l'avesse proprio? Perché non so se sono veri gli aneddoti che girano su di lei ma insomma li ha fatti disperare abbastanza. Mio padre e mia madre avevano un carattere molto diverso. Mio padre era apprensivo come io, come me. Io sono molto apprensivo e per fortuna i miei figli sono molto più prudenti di quanto non sia stato io. Quindi lui ha sofferto molto. Mio padre ha proprio sofferto. Anche quando ha telefonato l'autista dell'autobus della scuola? Sì. Dai, raccontiamola. I signori sono usati a tutto il mondo. Un giorno mio padre ha ricevuto in ufficio l'autista del Pulma che è andato lì e gli ha detto che in Vespa io con un mio amico l'avevamo superato col Pulma sulla strada. Mio padre pensando che si trattasse di un'imprudenza del mio amico alla guida del mezzo ha promesso di redarguire il mio amico. Senonché l'autista ha dovuto precisare che alla guida del mezzo c'ero io. e allora mi ricordo che la sera io gli sono andato incontro l'ho salutato e lui ha fatto finta di non conoscermi e allora mi sono domandato cosa fosse successo non ci pensavo neanche più io. Naturalmente mi sono preso ingiuri e improperi per qualche minuto insomma. Insomma devo dire che non possiamo che non fare non fare il tifo per suo padre perché insomma avere un'autista e quel tipo non sarà stata confortante senta maestro però lei lo stesso tipo di tenacia e di senso di superamento del limite l'ha avuto anche rispetto alla sua arte perché un sacco di persone come dire le hanno messo barriere di fronte e le hanno detto che in fondo lei come dire non doveva in qualche misura accedere o che era finito il tempo di un certo tipo di musica per l'Italia e che non avrebbe mai fatto il salto di qualità e poi eccola qui oggi è lo stesso tipo di atteggiamento che la guida guardi non c'è non c'è carriera senza difficoltà io penso che tutti voi lo sappiate questo nel mio lavoro di fatto succede questo all'inizio quando manifesti un certo talento tutti ti spingono e ti dicono canta 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 allora ti tocca cantare a scuola perché questo aiuta a perdere un po' di tempo con l'insegnante insomma devi cantare la domenica in chiesa devi cantare sempre comunque alle feste di compleanno degli amici eccetera se se questo se questa attività poi va avanti e diventi un cantante di successo da quel momento lì in poi cominciano i problemi perché chiaramente come diceva giustamente Oscar Wilde la gente tutto ti perdona qualche successo e allora ovviamente ci sono delle difficoltà ma queste fanno parte del gioco ovviamente se fosse facile allora saremmo in tanti a fare la stessa cosa però anche lì secondo me è bene guardare avanti è bene sempre non curarsi troppo di quello che può costituire un freno bisogna cercare la corsia libera e correre io ho sempre fatto questo abbiamo ancora qualche minuto insieme e lei prima si è definito appunto quello senza qualità che ispira gli altri noi abbiamo respinto la sua definizione certamente lei è una persona come dire che ispira pensieri persone azioni per lei invece quali sono state le persone chiave i punti di passaggio i riferimenti perché questo ci piacerebbe avere da lei avviandoci verso la chiusura della nostra conversazione beh io ho avuto la fortuna di avere al mio fianco una persona che definisco non so il mio mentore una sorta di precettore secondo padre quest'uomo era un autodidatta che di fatto aveva studiato da solo ed era diventato direttore della banca di Laiatico del mio paese sapeva conosceva sette lingue aveva una cultura immensa e è andato in pensione molto presto e da quel giorno è stato al mio fianco perché lui amando i libri la cultura eccetera era contento di venire a studiare con me e diciamo che grazie a lui so tutto quel poco che so ecco lo devo a lui mentre sul piano più strettamente artistico il mio idolo è sempre stato Franco Corelli l'incontro con la sua voce è stato un po' come un colpo di fulmio mi sono innamorato di lui come artista come cantante e non so da quel giorno ho pensato in qualche zona nascosta del mio cervello del mio cuore ho pensato di emularlo e di diventare un cantante eh sì le figure chiave dell'esistenza poi sono quelle che ci aiutano a trovare i percorsi siamo arrivati alla fine lei oggi è qui ieri ci ha lasciato il suo messaggio più forte con col suo canto e con la sua arte oggi qual è il messaggio che vuole lasciare a tutte queste persone arrivate da tutto il mondo che l'hanno ascoltata che poi continueranno nel loro percorso nel loro lavoro di ricerca ma che credo nell'incontro anche con una storia e una figura con la mela sua troveranno motivazioni ulteriori beh sarei abbastanza presuntuoso all'idea di avere un messaggio da dare a persone che si trovano qui e che sono tutte persone che nella vita sono riuscite molto bene nel loro lavoro io ho soltanto da ringraziarvi tutti per aver avuto la pazienza così di ascoltarmi e spero piuttosto di incontrarvi presto in luoghi dove invece di parlare si canta mi sembra un augurio meraviglioso grazie 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 al maestro Broselli grazie maestro so it's the end of our first part of the session now those who sign just for the first part are kindly requested to leave us because we have to give the space for those who sign for the second part thanks everybody have a great day grazie vi raggiungo fra un attimo grazie a tutti grazie a tutti